Il giocatore è molto mobile, Morezzi prova la conclusione, poi Tubani va con il sinistro, pallone che bacia il palo e dentro è rete, si sblocca subito l'incontro con il solito Andrea Tubani che con il suo piede sinistro, quello non preferito, infila il portiere Tordella e fa 1-0, Tubani prova a passare, vince un rimpallo, va con il sinistro, ancora il numero 7 mentre è aumentata l'intensità della pioggia ci pensa Tubani a portare la partita sui binari giusti siglando la rete del 3-0, doppietta personale per il numero 7